Il mistero di Non è l'arena svelato da Massimo Giletti. La verità sui nomi e cognomi. Hai sentito la notizia? Non è l'arena, uno dei programmi più seguiti di La 7, è stato improvvisamente messo in pausa. Ma cosa ha spinto Urbano Cairo a prendere questa decisione così drastica? Massimo Giletti, il noto conduttore del programma, ha finalmente rotto il silenzio e ha svelato retroscena interessanti durante il festival della TV. Giletti ha rivelato che l'amministratore delegato di La 7 ha dichiarato che lui e Piero Chiambretti, entrambi torinesi, potrebbero tornare presto in Rai. Questo annuncio ha lasciato tutti con il fiato sospeso, poiché non è ancora chiaro cosa riserverà il futuro. Giletti ha sottolineato che ci vorranno alcune settimane per avere risposte concrete e che, per ora, tutto è in fase di definizione. Il conduttore ha espresso il suo dolore per la sospensione improvvisa di Non è l'arena. Per lui, il programma è stato una parte importante della sua vita per 13 anni. Giletti ha paragonato la situazione a un divorzio, ma ha detto che è stata addirittura peggiore. Non riesce ancora a comprendere il motivo preciso dietro questa scelta così improvvisa e dolorosa. Giletti ha sottolineato che chi fa inchieste nel sistema televisivo spesso dà molto fastidio. Si è definito un cane sciolto, sempre pronto a toccare argomenti scomodi. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui il programma è stato sospeso. Secondo lui, la libertà editoriale che ha avuto per molte puntate è stata infine limitata, portando alla chiusura del programma. Un altro elemento cruciale che Giletti ha menzionato è un'intercettazione in cui Marcello Dell'Utri chiedeva la chiusura del suo programma. Questo avvenimento sembra aver giocato un ruolo significativo nella decisione di interrompere Non è l'arena. Nonostante l'editore Cairo abbia concesso a Giletti una grande libertà per molte puntate. Alla fine ha deciso di mettere fine alla collaborazione. Nonostante la sospensione del programma, Giletti ha parlato della possibilità di creare qualcosa di nuovo. Ha affermato di essere pronto a lavorare duramente e di aspettare il momento giusto per parlare apertamente di ciò che ha vissuto. Questo suggerisce che il conduttore non si arrenderà facilmente e che potrebbe tornare presto con un nuovo progetto. La situazione attuale è complessa e piena di mistero. Giletti ha parlato apertamente, ma molti dettagli rimangono oscuri. Sarà interessante vedere come evolverà la situazione e se il conduttore tornerà presto sul piccolo schermo con un nuovo programma. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti su questa vicenda intricata e affascinante. E tu, cosa ne pensi di questa situazione? Dillo nei commenti. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale per rimanere aggiornato su tutte le ultime notizie e storie del mondo dello spettacolo. Iscriviti al canale, metti un like e attiva la campagna.